Il prossimo speaker è trevigiano e ama la musica, però non suonerà, ve lo dico, però appunto ha scelto di fare nella sua vita un'altra professione, è diventato agronomo. Lui si chiama Alessandro Galardi e negli anni 90 del secolo scorso, quindi molto tempo fa, per far capire quanto siamo vecchi noi, quanto siete giovanissimi voi, ha fondato Ars Qualitatis che è una società di consulenza che assiste le organizzazioni soprattutto nel settore agroalimentare. Ma parallelamente ha anche altri interessi e si occupa di responsabilità sociale, di commercio equo e solidale e di sostenibilità e ci aiuterà con il suo speech a orientarci perché per comprendere è sempre necessario prima di tutto conoscere. Se siamo pronti le lascio il microfono. Grazie mille, grazie. Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui in questa fantastica location che ci è stata concessa. Dobbiamo parlare di sostenibilità, è la parola che ritorno in continuazione da stamattina che vi stiamo martellando su questo tema, su questo argomento. Io ho provato a cercare, a cercare questa parola, a digitare per trovare una definizione e su Wikipedia dice la sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato che può essere mantenuto a un certo livello indefinitamente. Quindi collega il concetto di essere sostenibile al tempo, la possibilità di riuscire a fare qualcosa in un certo modo nel tempo. Bella questa definizione. L'ho cercata un'altra anche sul dizionario Google che dice la possibilità di un processo di essere mantenuto protratto con sollecitudine e impegno e di essere difeso e convalidato con argomenti probanti e persuasivi. Quindi si concentra più sul fatto di poter, dover dimostrare che un qualcosa è sostenibile, qualcosa di probante e di persuasivo. Anche questa è molto bella, però non c'è altro. In realtà tutte le altre definizioni che andiamo a cercare sul web sfociano, scivolano tutte inevitabilmente su quello di cui ci ha raccontato prima Laura, giusto, la prima spicca, che è quello dello sviluppo sostenibile. È come se fossero quasi due corpi un'anima sola. Lo sviluppo sostenibile, qua l'ho messa in inglese, ma insomma la capacità di soddisfare le nostre attuali, ma anche le future esigenze delle prossime generazioni. Questa cosa è stata scritta nel rapporto Bruntland, come ci diceva, nella Conferenza Mondiale sull'Ambiente, 1987. 1987, ok, scritta, in realtà si è cominciato ancora prima a dare questa definizione. 1987, bene, oggi siamo nel 2023 e se ne parla in maniera importante, siamo qui oggi, c'è il tema della sostenibilità che ci caratterizza ormai in maniera importante, però sono passati 36 anni, quasi 40 anni. Possiamo dire che abbiamo avuto in questi 40 anni sviluppo sostenibile? Insomma, almeno fino agli anni 80 sicuramente no. Diciamo che l'ambiente era l'ultimo posto da prendere in considerazione, anche quando si creavano dei modelli o si creavano delle imprese. Ma anche in questi ultimi 40 anni, diciamo, c'è stato poco, è vero, ci si è lavorato. Adesso prima, mentre parlava Francesco, dove è finito? Quando ho fatto la tesi di laurea io, c'era qualcuno che proponeva, parlo del 1986, una tesi di laurea sui biogas. E qualcuno l'ha anche fatta. Bellissimo, questi impianti. Sono finiti poi nel silenzio totale per circa 20 anni, perché non c'erano i presupposti per poter sviluppare questi temi, che sono diventati invece in maniera fantastica all'ordine del giorno oggi. Per dire, ecco, come c'erano delle idee, ma poi concretamente nella vita quotidiana, nella giungla fuori delle imprese, non è che sia stato fatto tantissimo. Difficile dire che in questi 40 anni c'è stato sviluppo sostenibile. Ho due modi per dimostrarvelo. Uno, una dimostrazione empirica. Mio padre faceva il bagno nel sile, come forse faceva anche il dottor Bacari, visto che va al canottieri sile, io no. Se oggi mi metto a fare il bagno nel sile, mi dicono, tu sei scemo. È passata una generazione. Ora, è un bisogno mio andare a fare il bagno nel sile? Probabilmente no, vivo lo stesso anche se non faccio, quindi non sto soddisfacendo questo mio bisogno primario, ma è un segnale di qualcosa che è. Quindi questa è una dimostrazione molto pratica, empirica, ma proviamo invece ad alzare il livello. E ho voluto toccare invece il tema economico, visto che siamo in questo impero del mondo dell'economia, appunto, dell'Università di Ca' Foscari. Ho deciso di toccarlo e dimostrarlo dal punto di vista economico. E ho preso un esempio, che è quella del... Ho preso la legge dei rendimenti marginali decrescenti. Magari qualcuno di voi... Insomma, fate anche economia, se non ricordo male. Giusto? Fanno... Ecco, abbiamo anche il prof. Qua, fantastico. E allora, questa legge basica, insomma, si trova in tutti i testi di economia politica e dice che aumentando la quantità di un fattore produttivo a parità di altri, si raggiunge un punto in cui aumentando quel fattore la produzione tende a diminuire o addirittura ad azzerarsi. E questa legge funziona con queste regole e praticamente è rappresentata da questo grafico. Ecco, se vogliamo andarlo a vedere, no? È la teoria della produttività decrescente. Vedete? Aumentando il mio fattore produttivo, la produzione che è Q aumenta nel tempo. C'è il punto di flesso. Si vede forse meglio nella prossima diapositiva, dove vediamo che aumentando il fattore, aumenta la produzione, prima in maniera più che proporzionale, fino al punto C, e poi tende a decrescere, fino addirittura ad azzerarsi. Io sono un agronomo, voi venite al Cerletti, ma l'esempio classico che si fa sono le dosi di fertilizzante. Le prime dosi che dai su un fertilizzante su un terreno poverissimo portano a una resa immediata produttiva, ma man mano che aumento le dosi addirittura tende a calare, fino addirittura ad azzerarsi, addirittura a diventare negativo. Perché, si dice nei nostri corsi, perché vado in eccesso di fertilizzazione. L'apparato radicale comincia a soffrire e quindi a produrre addirittura di meno. Bene, perché sto usando questa legge, questa curva, che poi è anche analizzata da altre cose, ma che vi risparmio. Va bene? Ecco, torniamo alla nostra curva. No, no, vai pure avanti Gastone, questa qua lasciamolo perdere. Ecco, e cioè cosa mi dice? Che, perché mi sono interrogato, ma se io do delle dosi del mio fattore di via progressive, e queste si trasformano meno in prodotto, questo fattore dove va a finire? Siccome la termodinamica ci dice che nulla si crea, nulla si distrugge, se questo non viene trasformato in qualcosa, non potrà che finire, appunto, o nell'ambiente sotto forma di reflui, puoi pure girare, Gastone, Gastone, ecco, sotto forma di calore, rifiuti, scarti. Evidente, se non si trasforma in qualcosa di produttivo, di resa, resterà nell'ambiente. Quindi ho utilizzato ecco questo principio basilare dell'economia per dimostrare come, in effetti, ecco, i nostri sistemi che sono ad alte prestazioni. Oggi i nostri sistemi produttivi stanno girando a bassi regimi o ad alti regimi, ma tendenzialmente cerchiamo di usarli, di farli funzionare bene, dobbiamo amortizzare gli impianti, dobbiamo farli lavorare, quindi mettiamo tante dosi all'interno per farli girare, e quindi siamo nella parte alta della curva e di conseguenza qualcosa mi resterà nell'ambiente. Tutto questo quindi ha generato un mondo che è quello in cui stiamo vivendo, in cui, insomma, caspita, abbiamo moltissimi indicatori di uno sviluppo sostenibile che è stato molto limitato. Ma cosa è successo? Che dopo il Covid c'erano già stati degli abisaglie, per la verità. Nel 2019, forse ve lo ricordate, Greta, ecco, tutto questo pullulare del tema dell'ambiente, il futuro, che pianeta ci lasciate, maledetti, voi boomer, eccetera. Beh, insomma, ecco, poi tutto questo è stato sopito per due anni dal Covid, è andato in silenzio, ma appena ne siamo usciti a settembre 2021 il mondo si era scoperto improvvisamente affamato di sostenibilità e di un volere di entrare su queste dinamiche, di capire, di sapere, di avere prodotti, aziende, organizzazioni sostenibili. I sociologi stanno ancora cercando di studiare, di capire come mai sia avvenuto questo, no? Allora dicono, ma è perché è spinto dal PMRR, è perché tutti hanno visto che improvvisamente a Venezia si cominciava a vedere il fondo dei canali con trasparenza, piazza San Marco, deserta, qua a Treviso è il put, potremmo camminare sul put, fantastico, insomma, non si riesce a capire quale sia il fenomeno sociale che ha portato a questa cosa, ma certo è che il mondo si è improvvisamente appunto svegliato, no? È definitivamente atterrato sul tema della sostenibilità e che quindi da un paio d'anni sta correndo a ritmi mostruosi anche noi come valutatori che andiamo a certificare l'azienda come consulenti che le assistiamo su questo detto in dialetto veneto no che stiamo DRIO ok? C'è una domanda ecco di esperti di questi temi di questi argomenti e di certificazioni che è veramente intensissima. È vero questo? Ho provato semplicemente a cercare nel web l'altro giorno mi è venuto fuori il disastro c'è tutto sostenibile lavatrici con il detersivo volete c'è la lavatrice sostenibile Barilla 476 nuovi prodotti sostenibili sfornati negli ultimi dieci anni presi a caso cioè crema di sci latte solare più rispetto per la vita marina cioè metto il latte solare poi vado a fare il bagno e non inquino il mare no? Sei presente l'effetto jesulo andate se sento l'odore di cocco dove c'è il cocco non sei creme solari tutti quelli che vanno a fare il bagno eccetera quindi rispetto per la vita marina poi io appassionato di musica non potevo mettere musica sostenibile è stato prodotto il primo vinile bioplastico quindi i dischi che c'è un ritorno ai vinili fantastico che forse non l'avete mai visto voi ma insomma non importa però ecco ci sono i vinili in materiale bioplastico fantastico questo no? perché il vinile è una sostanza che ci suona male ha generato tanti problemi anche qui a Marghera zoccoletti sostenibili tutto cioè ho provato a prendere un po' tutti i prodotti ma arriviamo anche ai grandi marchi Zara considerata forse un simbolo del fast fashion ci diceva prima cioè una moda che va via veloce eccetera ha degli impegni mostruosi sulla sostenibilità se andate a vedere no? sui coloranti sul riutilizzo delle fibre tessili nel 2040 Zara ha dichiarato che diventerà carbon neutral ok? ok per la produzione del fast fashion che sono considerati l'embleva quasi iconico no? del consumo no? e per ultimo non potevo mettervi anche mettervi anche l'acqua San Benedetto altro elemento iconico della contaminazione per fortuna su questo tavolo non c'è acqua in plastica scherzo Castone però ecco le bottigliette in plastica bene hanno fatto degli sforzi e sono e stanno pubblicizzando vedete ecco green questo è tutti i risultati che dà da quando l'hanno cominciato a produrre riducendo lo spessore avete presente lo spessore del tappo è stato ridotto la plastica è sottilissima infatti la bottiglietta si schiaccia e poi hanno fatto quella maledettissima cosa che hanno collegato il tappo adesso non si stacca più no? dice ma perché si infami mi devono farmi sta roba che devo perversarla mi fa il disastro perché evitano che il tappo finisca nell'ambiente quindi ha una sua logica tutto questo anche se è diventata più scomoda per noi che la andiamo a consumare bellissimo quindi per dirvi quanto c'è oggi in giro di offerta di prodotti da parte di non solo prodotti ma anche organizzazioni impegnate su questo tantissimo ma la domanda che ci dobbiamo porre è visto che è tutto questo che sta succedendo in maniera molto veloce ma questa è una svolta è un vero cambiamento da parte del nostro settore produttivo o è una moda adesso tutti si sono messi a fare questo perché perché tira perché vende perché soddisfa un'esigenza del mercato oppure è veramente un cambio di paradigma da parte degli imprenditori che dicono no ci crediamo lo vogliamo fare perché è importante e lo vogliamo portare avanti alcuni dicono ma ci sono imprenditori che lo fanno perché ci credono altri perché perché vogliono vendere perché vedono che questa cosa tira e che cosa ci cambia no? se un imprenditore lo fa perché vede che il prodotto tira di più sul mercato ma fa delle cose belle positive in termini di sostenibilità che cosa ci cambia no? quindi faccio fatica a dire le motivazioni di serie A e di quelle di serie B l'imprenditore di serie A che lo fa perché ci crede da quello B che invece lo vuol fare perché vuole vendere di più in maniera molto di Niccolò Macchiavelli direi ci interessa il risultato no? cioè che si vada tutti in questa direzione però questo ha generato una situazione che ha delle conseguenze non sempre belle non sempre positive e che sono queste oggi c'è oggi c'è un'assenza di regole pressoché totale nel come andare a comunicare questo e questo ha creato una certa inflazione comunicativa vi ho dato vi ho fatto un esempio prima no? e quindi sta creando un po' di confusione oggi se io voglio dichiarare sul mio prodotto che sono sostenibile posso farlo? sì un mese fa ho comprato un vasetto di miele a un mercatino un vasetto di miele fatto da un produttore quattro Treviso a Vicenza e c'era scritto sul sigillo azienda sostenibile cosa fai? boh non lo so azienda sostenibile e ho deciso di andarlo a trovare no? un giorno ho comprato ma perché lei è sostenibile? che fa? ma perché in realtà le macchine aziendali siamo passate alle macchine a metano va beh può scrivere azienda sostenibile? sì cioè non c'è è un concetto questo che è deregolamentato o meglio non è mai stato regolamentato e quindi un'organizzazione può dirlo può farlo può usarlo non è perseguibile oggi perché in realtà alla luce di questa di questa confusione mediatica le cose stanno cambiando c'è una proposta di una direttiva comunitaria del marzo del 2023 attenzione è una proposta non è neancora una direttiva che fa parte tra l'altro del Green Deal europeo sulle autodichiarazioni ambientali per contrastare il Greenwashing sapete cos'è il Greenwashing no? ecco e le cosiddette asserzioni ambientali ingannevoli eh? tocca proprio questo argomento questa direttiva tra l'altro è una proposta deve diventare direttiva e poi dovrà essere quindi dovrà essere approvata dal Parlamento e dal Consiglio europeo e poi fatta la direttiva dovrà avere o dei regolamenti applicativi o dovrà essere recepita da normativa nazionale per diventare pratica no? quindi ci sono ancora dei tempi tecnici per arrivare a questo però cosa dice questa direttiva che è intervenuta su questo argomento dice le autodichiarazioni ambientali prima che le aziende le possano comunicare dovranno essere verificate in modo indipendente e convalidate da prove scientifiche quindi dovranno le imprese definire quali sono gli impatti su cui vanno a lavorare e i compromessi che dovranno fare per ok? per cui ecco questa dicitura azienda sostenibile perché ho la macchina a metano per capirsi sarà messa sarà messa in discussione cioè ci vuole della sostanza ci vuole una come diceva Laura una misurazione di queste cose capire quanto non solo cosa sto facendo ma anche quanto e quale sarà il mio impatto per cui questa proposta probabilmente ci aiuterà a capire meglio e identificare meglio anche i prodotti che e le cui organizzazioni che sono impegnate su questo bene ma detto questo e quindi la nostra prima abbiamo visto dei grandi marchi che vi ho fatto vedere ma per la nostra realtà produttiva parlando qua di noi del Veneto caratterizzato da imprese medio piccole no? la medio piccola impresa bene perché oggi questi imprenditori si pongono la domanda no? ma ha senso per noi andare a investire in sostenibilità un imprenditore medio piccolo no? con risorse limitate no? cosa posso fare io sulla sostenibilità perché nella testa l'imprenditore gli frullano una valanga di domande alcune di queste prima siamo in un mercato un po' stazionario stabilità o addirittura in qualche settore contrazione dei consumi ha senso andare a investire in un momento di stagnazione di decrescita? prima domanda secondo i costi cioè diventare sostenibili costa in un modo o nell'altro o a livello economico o a livello sociale o a livello mentale o meglio ancora a livello di tutti e tre ha un costo chi sosterrà questi costi? i margini quali margini si possono ottenere su prodotti più sostenibili sul mercato? sarà possibile alzare i prezzi in virtù della sostenibilità? il mercato sarà in grado di recepirle queste cose? oppure il margine deriverà solo dalla riduzione dei costi? altra domanda i finanziamenti esistono vere e reali canali forme per essere aiutati da parte degli enti pubblici dell'unione europea per andare in questa direzione? non ho risposto a queste domande ma sono queste quelle che frullano nella testa delle persone che gestiscono le imprese che devono decidere che investimenti se e quali investimenti fare e infine la fiducia sarò in grado io come imprenditore di trasmettere fiducia in merito al mio impegno che sto facendo sul tema della sostenibilità riesco cioè a veicolare questo messaggio fino al mio cliente al mio consumatore finale e quindi nasce la grande domanda come trasmettere fiducia? come trasmettere fiducia che le cose che racconto sul mio sito web sul mio catalogo sul mio prodotto sulla mia etichetta sono cose vere sapendo che la fiducia è sempre questa posizione mediana tra chi è chi va a credere a tutto quello che gli viene detto è presente quello che c'è la pubblicità dice bisogna mangiare il caramello mangia caramello bisogna mangiare hamburger via mangiamo hamburger vabbè insomma queste barzellette ecco oppure dall'altra parte chi è sospettoso cioè non crede a nulla la fiducia è una situazione mediana quindi ascoltare filtrare e e arrivo quindi ma come trasmettere fiducia ci sono tre strumenti tre macro strumenti semplificando il primo crearsi una reputazione e quindi una credibilità aziendale ma ci vogliono tempi lunghi quindi vuol dire affermare un marchio riuscire a trasmettere un messaggio ed essere credibili nel tempo con la propria reputazione oppure fare delle fortissime campagne comunicative no per impattare sulla testa dei consumatori certo che si può fare ma come potete immaginare ci sono dei costi elevatissimi che forse il piccolo medio imprenditore non può permettersi ci resta la terza strada che è quella della certificazione scelgo cioè un modello uno schema un bilancio da seguire e lo applico faccio le cose che devo fare e me lo faccio verificare e questo ha tempi e costi che sono alla portata non dico di chiunque però indubbiamente alla portata anche della piccola media impresa e quindi forse è questa ecco tra queste tre per la nostra realtà per i nostri piccoli medi imprenditori per riuscire a impegnarsi su questo e riuscire a dimostrarlo a terzi tutto bello? Sì c'è una prima Laura ci ha fatto vedere qualche logo ve ne aggiungo qualcuno ed è questo è solamente un esempio ho messo anche Qualitas tranquillo ok in realtà l'Unione Europea ha fatto una un censimento dei loghi e dei marchi che ci sono sono 230 in Europa ok cioè cose che possono essere veicolate su un prodotto e che in qualche modo hanno a che fare con la sostenibilità o per la parte economica o ambientale o sociale è chiaro che c'è una babele comunicativa su questo c'è un disorientamento totale di questo aspetto io una settimana sì una settimana sì sono chiamato ad imprenditori e mi dicono dottor dottor venga che mi deve spiegare perché hanno questo desiderio di entrare su queste cose di farle di dimostrare ma non sanno che strumento scegliere c'è veramente una offerta di prodotti di strumenti di regole di standard di bilanci di linee guida da seguire su cui è difficile discernere e quindi il nostro lavoro è quello di aiutarli a capire qual è il prodotto per te giusto in funzione di quelli che sono i tuoi obiettivi e su questo poi ci andiamo a lavorare e questo quindi il lavoro che facciamo c'è di aiutare gli imprenditori a capire qual è lo strumento più giusto per per riuscire a diventare un'azienda sostenibile credibile e quindi a comunicarlo ai propri clienti o ai propri consumatori il mercato è un lavoro questo interessantissimo ma volevo farvi vedere appunto e chiudo l'ultima diapositiva in cui ha parlato di latino io peggioro parlo di greco qua abbiamo abbiamo messo queste due paroline di Pantarei di questo presocratico fantastico del 500 avanti Cristo che diceva tutto scorre e parlava del fiume visto che abbiamo sempre il sile qua dice un po' la vita è come no mettersi sulla riva di un fiume dove nessuna cosa è uguale a se stessa nel tempo perché tutto scorre questo è il suo principio questo è il suo principio filosofico quindi tutto cambia ma ce lo portiamo dentro perché per dire che al di fuori di queste mura fuori il mondo fluisce il mondo va avanti bisognerebbe togliere una S vi ho detto tutto scorre togliamoci la S fuori di qua tutto corre a velocità altissime in due anni si è guadagnato in termini di sostenibilità tutto quello che non è stato fatto nei trent'anni precedenti per cui veramente fuori si va a ritmi elevatissimi ecco e il mondo sta correndo voi siete tutti tutti giovanissimi quindi avete la possibilità di allenarvi e di cominciare a correre come si diceva per cui vi invito a cominciare ad allenarvi e sul mercato del lavoro vi stiamo aspettando grazie